Otto nuovi catecumeni domenica 9 dicembre in cattedrale alla presenza del Vescovo Armando hanno preso parte al rito della missione al catecumenato. Compiuti gesti iniziali, il Vescovo ha invitato ciascun catecumeno con i loro garanti a entrare in chiesa e quindi ad essere accolti ufficialmente dalla chiesa diocesana. Il Vangelo di questa liturgia domenicale, ha sottolineato il Vescovo nell'Omelia, è travolgente, ci fa comprendere che grandi cose fa il Signore con i piccoli. Rivolgendosi poi alla comunità presente e ai neocatecumeni, ha sottolineato che il fenomeno della ripartenza nella fede del catecumenato adulto è un avvenimento nuovo della chiesa e proprio quest'anno vi sono otto giovani catecumeni di provenienza dall'America Latina che chiedono di diventare cristiani. Loro, ha messo in evidenza il Vescovo, sono la novità della chiesa e qui nasce il senso della ricerca della fede e della conoscenza di Gesù. Il catecumenato adulto è un onore per la nostra chiesa. Il Vescovo Armando ha poi terminato l'Omelia ponendo degli interrogativi ma gli italiani hanno ancora bisogno di Gesù oggi? Lo cercano ancora? Questo rito che dà via il cammino catecumenale che porterà gli otto catecumeni dopo un percorso di formazione e fraternità a ricevere il sacramento dell'iniziazione cristiana è terminato con la consegna del Libro dei Vangeli a ciascun giovane e la preghiera di benedizione.